Gli atti attraverso i quali è stato istituito l'ufficio di staff e successivamente è stato assunto l'ex assessore Lenuzzo potrebbero essere viziati da illegittimità, in quanto irrispettosi delle norme che limitano le assunzioni. Continua a tenere a banco la composizione dello staff del sindaco di Oria, Cosimo Pomarico, che secondo il consigliere comunale di Io amo l'Italia, Angelo Mazza, sarebbe stato viziato da atti irrispettosi delle norme che limitano le assunzioni di personale negli enti locali. Il consigliere, facendo leva sul regolamento di contabilità del comune di Oria, che stabilisce che ogni gruppo consigliare con richiesta sottoscritta dal capogruppo e indirizzata dal Presidente del Consiglio può richiedere pareri sugli aspetti economici, finanziari della gestione e sugli atti fondamentali dell'ente, interpella così sulla questione il Collegio dei Revisori dei Conti. Il motivo? Secondo Mazza, il procedimento che ha portato alla composizione dello staff sarebbe stato promosso dagli uffici e dai dirigenti in maniera illegittima, con tanto di responsabilità erariale. Dopo l'interrogazione firmata da Giuseppe Carbone, insomma, lo staff del Sindaco continua ad attirare l'ira dell'opposizione. Ora l'istanza passa ai Revisori, a loro il compito di svelare l'arcano.